Negli ultimi duecento anni sono cambiate molte cose. L'uomo ha sviluppato nuovi linguaggi per comprendere ed iscrivere la realtà, in modo particolare attraverso il linguaggio scientifico e il linguaggio cinematografico. Ed è anche come conseguenza del nascere di questi linguaggi nuovi che le persone si sono poste questa domanda. Com'è possibile che l'umanità abbia creduto nella Bibbia? Come siamo arrivati a credere in queste storie assurde? È accaduto perché i racconti biblici tramandano una forma di conoscenza più profonda di quanto possiamo immaginare. Perché i racconti sono capaci di veicolare non solo concetti astratti, ma anche quella carica irrazionale e contraddittoria che ci contraddistingue come esseri umani. Il racconto descrive la sapienza che era chiusa nell'esperienza umana, anche in quegli aspetti che la ragione non riesce ad articolare in modo lineare e logico. Per esempio, noi tutti percepiamo che accade qualcosa di immenso quando Abramo sta per sacrificare a Dio il suo figlio amato, qualcosa di immenso, ma anche di pazzesco e contraddittorio e irrazionale e inaccettabile. Il racconto del sacrificio ci fa conoscere un lato di noi stessi che noi non siamo pronti ad accettare razionalmente e che tuttavia fa parte di noi ed è qualcosa di grande, di potente. Il racconto è molto differente dalla conoscenza scientifica che porta ogni cosa alla superficie e rende evidente ogni collegamento logico con cui dimostra le sue asserzioni. Ed è per questo che spesso le persone che hanno un approccio scientifico con i testi sacri restano profondamente deluse. Per capire la Bibbia dobbiamo spogliarci dalle nostre strutture logiche, per immedesimarci nell'esperienza vissuta dai nostri patriarchi. Dobbiamo entrare nel racconto.